Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Anche questa sera parliamo, come stiamo facendo in questa settimana, di libri perché è il momento di presentare nei nostri studi, per la prima volta in televisione, il nuovo libro appena uscito, appena fresco di stampa, della scrittrice abruzzese Maristella Lippolis. Buonasera Maristella. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Allora, una scrittrice che non ha bisogno di presentazioni, ha avuto anche grandi affermazioni nazionali con i suoi romanzi in cui sono protagoniste donne, qui addirittura 12, Donne che non muoiono, edito da Vallecchi, questa appunto è la prima volta che ne parliamo, quindi è chiaro che non l'avrà letto ancora nessuno, ma credo che saranno tante, le lettrici e anche i lettori, perché è un romanzo, ma è sostanzialmente quasi anche un saggio sulla contemporaneità dei sentimenti che le donne vittime di violenza vivono. Tutte storie che poi convergono in un'unica direzione, però ci descrivono molto, 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 purtroppo, di quello che anche noi scriviamo quotidianamente sui giornali, che raccontiamo in televisione, la violenza di genere. Come è venuta questa gestazione, Maristella? Dunque, questo romanzo nasce da un sentimento di rabbia, fondamentalmente, di rabbia e anche un po' di impotenza, che mi prende, ci prende, un po' tutti quanti noi che siamo sensibili a questa realtà, come ricordavi tu po' anzi, della violenza sulle donne. rabbia perché sembra che le cose non cambino mai, rabbia perché sembra che tutte le strade che si intraprendono non portino poi alla fine da nessuna parte, perché ne muore quasi una ogni giorno, in questi giorni poi c'è una recrudescenza incredibile, insostenibile, e quindi nasce da questo sentimento e dalla, come dire, dalla possibilità che ti offre la scrittura, alla narrativa, di inventare delle storie che vadano in un'altra direzione, che non si concludano quindi con la morte di una donna, ma con la possibilità che la narrazione offre a questa donna di salvarsi. Infatti questa è una storia di salvezze, fondamentalmente. La violenza viene raccontata per il minimo indispensabile, ma non è, insomma, sono le conseguenze della violenza che vengono in luce piuttosto nella narrazione, ma è fondamentalmente una storia di salvezze, perché sono donne che non muoiono perché si salvano, perché trovano, prima di tutto in se stesse, ma poi nel caso, nella fortuna, nell'incontro con altre donne, trovano la forza di attingere alle proprie risorse psicologiche, relazionali, insomma, quello che riescono a trovare in se stesse e nel contesto che le circonda, per mettere fine a storie di violenza che le riguardano e che, molto probabilmente, per alcune potrebbero anche concludersi molto male, insomma, con la morte poi. Una salvezza che parte, intanto, da una presa di coscienza comune di queste donne che poi si riuniscono attorno a ciò che le salverà, vale a dire i libri. I libri sono, è una realtà questa, non è un'opera di finzione, di fiction, di un romanzo, i libri sono un scoglio di salvezza, nei momenti difficili delle persone, non soltanto delle donne. Sì, è così, insieme alle protagoniste, che sono dodici a diverso titolo, con diversi ruoli, poi quelle che vivono la violenza direttamente sulla propria pelle sono soltanto alcune di questo gruppo, però queste donne si riuniscono in una libreria e leggono libri, decidono un po' casualmente, e perciò che a volte anche il caso è importante, la fortuna, decidono di leggere libri che raccontano salvezze. E in questo elenco, in questi racconti di libri che raccontano salvezze, si trovano anche le ragioni, la forza, la determinazione a prendere in mano la propria vita, a non lasciarla andare così, a non lasciarla perdere. I libri sono, sì, sono importanti. Mi viene da pensare, soprattutto quello che diceva lei all'inizio, relativamente alla clamorosa, veramente, assolutamente inedita, recrudescenza di episodi di violenza in questi giorni, in questi tempi, in queste ultime settimane, che riguardano anche ragazze, più che donne formate, come le protagoniste del libro. Ed è probabilmente, forse è un libro dedicato soprattutto a loro, che hanno strumenti di comunicazione e anche strumenti, insomma, che sono tipici della propria vita, a scuola, in famiglia, che non sono i libri, purtroppo, e che rendono difficile un approdo anche ad una consapevolezza che si raggiunge attraverso la lettura. Sì, in questi giorni c'è questo caso sconcertante di questa ragazzina di 14 anni, di cui, tra l'altro, tutti i media continuano a definire, cioè il fidanzato. Ma come si fa a parlare di fidanzato di 17 anni a una ragazzina di 13, 14? Già, insomma, questo. Questa mi sembra una distorsione un po' della realtà, no? E questa ragazzina che non si sa con chi parlava, a chi confidava queste cose, alle amiche, forse. E le amiche sono anche state importanti, perché in queste ore proprio, no, è venuto fuori che una ragazza sconosciuta, e questo a volte accade anche nel romanzo, che una sconosciuta si fa carico di qualcosa che vede, vede un'aggressione per strada, verbale, anche fisica, ha la presenza di spirito di avvicinarsi, di fingere di essere un'amica, e soprattutto di riprendere con il cellulare. Quindi, diciamo che anche questi mezzi, che a volte si sembrano un po' eccessivi, diciamo, come presenza nelle nostre vite, in questo caso si è rilevato importante, perché lei ha filmato questa scena di violenza. E adesso anche questo diventa, come dire, un elemento per agire nei confronti di questo ragazzo. La violenza tra i ragazzi è... E non è solo quella contro le donne, purtroppo, perché, insomma, ormai lo vediamo tutti i giorni, quindi ci sono ragazzi che escono di casa con un coltello in tasca e non si capisce come sia possibile questo nelle case. Come è possibile scrivere, come ha fatto lei con la fiction, appunto, con il romanzo, un finale diverso a queste storie, che sono silenziose, si vivono tra le mura domestiche, si vivono in una quotidianità che sembra quasi accettata in maniera remissiva dalle donne vittime di violenza. Allora, un percorso standard credo che non ci sia, perché tutte le storie si somigliano, ma contemporaneamente sono diverse l'una dall'altra. È la donna direttamente interessata che deve avere il coraggio. Basta anche solo un momento di guardarsi allo specchio e decidere che non vuole più proseguire quella vita. Poi dovrà intraprendere un percorso. Ci sono tanti supporti, ci sono i centri antiviolenza che funzionano molto bene, c'è un numero nazionale che si può fare ovunque, in qualunque ora del giorno della notte, che è il 1522, che mette immediatamente in contatto con il centro antiviolenza più vicino. Sono piccoli passi che vanno fatti, ma che devono partire dalla persona interessata, perché se no può anche partire dalla vicina o dalla sorella, però alla fine non è mai un affrontare in maniera risolutiva da parte della diretta interessata. Deve essere lei, infatti per esempio ai centri antiviolenza raccolgono solo testimonianze delle donne che agiscono in prima persona, perché non ci può essere una delega in questo. Serve un salto di coscienza personale, di guardarsi e dirsi io non sono così, io non voglio più continuare a vivere in questo modo. E questo è il primo passaggio che va fatto. Nella violenza quotidiana una via di uscita è anche in molte delle storie raccontate di fantasia, ma in cui tanti casi anche purtroppo si identificano oggi nella cronaca di questi casi di violenza. Una via di uscita è quella di una riappropriazione anche di una propria identità, di un proprio passato, addirittura della propria infanzia e adolescenza. Molte donne trovano la forza di non morire, di non lasciarsi morire, perché poi anche questo, in un recupero che le distacca dal presente. Può essere un libro, ma può essere anche una memoria, un sogno, come avviene in alcune di queste storie. Sì, infatti, come dicevo, c'è una strada personale per ognuna. Non c'è, diciamo, un cliché, una ricetta valida, sempre valida per tutte. Però, certo, la coscienza personale di quello che si è o di quello che si vuole essere, appunto, una fantasia su se stesse, un sogno da realizzare, un desiderio di vivere meglio, ecco, di vivere meglio, perché quella vita che stiamo vivendo non ce la meritiamo. Ci vuole questo salto di coscienza, se no ogni passo che sarà fatto sarà illusorio, sarà momentaneo, si ricascherà e si perdonerà e si ritirerà la denuncia. Cioè, bisogna partire veramente da sé e in questo sì, farsi aiutare, ecco, perché magari da sole non ci si fa. Perché questo libro dovrebbe essere letto dagli uomini? Dovrebbe essere letto dagli uomini perché gli uomini devono capire, come molti protagonisti maschili di questo romanzo, perché non ci sono solo donne, ci sono anche uomini che hanno capito, che comprendono e che sono vicine alle donne che si assumono questa responsabilità di aiutare anche altre donne. Gli uomini devono capire qual è il meccanismo che porta alla violenza, perché, non lo so, non ci si nasce probabilmente, ci si diventa, se non si è consapevoli dei propri gesti, dei propri atti, delle conseguenze dei propri atti, non si può fare nessun passo, nessun passaggio e sarà sempre una spirale di violenza in cui loro si vedranno comunque sempre dalla parte del torto, non c'è scampo e di questo gli uomini è bene che prendano consapevolezza, ce ne sono tanti, questa consapevolezza ce l'hanno e l'hanno acquisita, l'hanno acquisita dall'educazione, da genitori che sono stati vicini, che sono stati capaci di trasmettere modelli positivi e che questo poi è fondamentale e quindi questo credo che sia un libro utile anche a loro. Lei ha scritto tanti romanzi in cui i protagonisti sono prevalentemente le donne, ma in questo in particolare lei ha avvertito un carico di responsabilità diversa nel dare alla luce queste pagine? Sì, ho avvertito questo carico di responsabilità, infatti ho impiegato un po' più tempo nella scrittura rispetto ad altri miei lavori precedenti. Perché? Perché volevo dare molti segnali contemporaneamente, intanto quello della possibilità di uscire dalla spirale della violenza, poi anche quello che le soluzioni possono essere tante e che ognuna deve trovare la propria strada, come dicevo prima, e quindi anche su questo mi sono dovuta interrogare e anche stare un po' attenta. Questo non è un manuale di comportamento, perché ci sono anche soluzioni, forse non ortodosse, ma... Però è molto vicino al reale, come rispetto agli altri romanzi, rispetto agli stati d'animo, cioè c'è una possibilità di identificazione, anche perché non c'è un'unica protagonista, è un romanzo corale. Sì, e forse anche questo è il senso di responsabilità di cui parlava, perché è una storia talmente vicina alla realtà, talmente sulla pelle di chi ascolta, di chi legge, di chi vive una situazione di quel genere, che insomma passi falsi o soluzioni facili o banalizzazioni o semplificazioni erano proprio assolutamente... Insidie dietro l'angolo, come si dice nella scrittrice. Assolutamente da evitare, ecco, da evitare perché non, insomma... E per questo motivo noi non spoileriamo nulla del finale... E no, assolutamente, dei finali. Dei finali, insomma, di una situazione che però, insomma, dal titolo è facilmente, facilmente intuibile. Almeno uno si fa un progetto di lettura quando attraversa queste pagine, che potrebbe portare a quell'esito. Insomma, il come e soprattutto il perché della non morte di queste donne è sicuramente l'aspetto più interessante che Maristella Lippolis ci regala con le sue pagine. Io la ringrazio per aver accolto il nostro invito, ripeto, di presentare qui a Rete8 per la prima volta questo romanzo e avrà adesso anche un iter di presentazione, ci piace ricordare, essendo qui proprio dalle nostre parti, anche l'evento del FLA, dove potrà incontrare i suoi lettori. Grazie, sì, il FLA sarà, il mio incontro sarà il 9, sabato 9 alle 16, al Museo Cefcello e poi ci sono molti altri appuntamenti a Pescara, in provincia di Chieti. Voglio ricordarne uno per tutti, il 22 novembre, organizzato dal Centro Antiviolenza di Pescara, un appuntamento in cui loro leggeranno il mio libro, lo racconteranno, ne parleremo insieme. Grazie, in libreria, donne che non muoiono, Vallecchi, Firenze, Maristella Lippolis. Grazie ancora e buona serata. Grazie, buona serata, grazie.